In progressiva accelerazione, macchina che va per staccare, Otteikio in vantaggio al suo esterno mitico Cav, poi terza lungo la corda alla favorita Panama in caso di vittoria, paga 2,57, insiste. Flavio Martinelli con mitico Cav all'esterno della battistrada, entrando di fronte passa mitico Cav a scavalcare Otteikio in la terza posizione, rimane la favorita Panama, poi ancora in corda a pensiero di Mar, mentre dal gruppo c'è l'avanzata in avanti di Orietta Sem. 31,2 i 400 dopo gli iniziali 60 metri, passa in seconda posizione intanto Papas del Pino, che va a progredire, non era l'orienta Sem, va a progredire lungo il termine della piegata. Mitico Cav in vantaggio, allargo Papas del Pino, in terza posizione sempre Otteikio. 1,05 e 1 per gli 860 metri, 35 il secondo parziale, all'avanguardia mitico Cav, in seconda posizione all'esterno Papas del Pino, poi il gruppo chiuso da Possicat in. Penultima piegata, all'avanguardia mitico Cav, in seconda all'esterno Papas del Pino, terza di dentro, rimane Otteikio, poi il Braz, all'esterno della favorita Panama, che al momento temporeggia. All'avanguardia mitico Cav, ora Massimiano Castaldo sposta in cuore la favorita Panama, 2,57 la sua quota, si profila a lato di mitico Cav, in terza posizione Papas del Pino. Lungo l'arco della piegata, dopo il terzo quarto completato in 31,7, sempre all'avanguardia mitico Cav, in seconda posizione Panama, poi prova a migliorare anche Pensiero Di Mar, completamento della curva, frazione completata in 31, ingresso addirittura per mitico Cav avanti a Panama, che ora prova per vigne interne. Mitico Cav avanti a Panama, poi c'è in recupero anche Piera del Bar, nel finale mitico Cav, Panama, Piera del Bar, in lotta per il secondo posto Panama e Piera del Bar. Successo che sorride così a mitico Cav, totalizzatore 19,88, passaggio al traguardo per i numeri 7,2,1, così per l'Impica nazionale, concorso 1934.